Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in un nuovo vlog flash di compreanno Stiamo andando dalla socerina, oggi è il suo compreanno e quindi andiamo a portare le doni A farle la festa, a farle gli auguri Non farà la festa perché appunto è a dieta quindi non può mangiare né torta né pasticcini Però andiamo per stare in compagnia, stessa cosa che ha fatto mia mamma, non abbiamo fatto festa Però lì abbiamo fatto il regalo, siamo stati con lei, abbiamo detto se vuole uscire, ma era stacca quel giorno E adesso andiamo comunque dalla socerina, facciamo gli auguri, stiamo un po' con lei, passiamo la giornata con lei Io mi sono vestita così, con la canotta Emporia Armani E su ho una gonna con un dragone bellissimo, con tanti dragoni Poi vi farò vedere l'outfit of the day, penso nel vlog di mio marito, non lo so Lo fai tu e lo compri hanno un vlog, giusto amore? Sì dai Insomma, uno e due lo fanno comunque Niente, vi auguro una buona giornata e ci vediamo video, vlog, live facendo Ciao